Quarta tappa di Coppa Toscana a Prato con la da piazza a piazza giunta quest'anno alla 35esima edizione. Giornata soleggiata ma fresca lungo le sponde del fiume Bisenzio con oltre 700 atleti al via pronti a sfidarsi sul percorso marathon di 65 chilometri e 2130 metri di dislivello. Da segnalare al via il team Sudal-Likugan con la campionessa europea Adelaide Morat e la campionessa italiana Sandra Mairofer ed il team Bottecchia con Stefano Valdrighi vincitore la settimana scorsa a Sinalunga. Il via alle ore 9.30 e subito al comando si forma un quartetto composto da Paez, Valdrighi, Kerchi e Spica. Dopo il Gran Premio della Montagna delle Cavallaie, Paez si avvantaggia di circa un minuto sugli inseguitori ai quali nel frattempo si è aggiunto anche Stefano Goria. Nella seconda parte di gara sulla via del ritorno verso Prato la coppia Valdrighi-Kerchi riesce a raggiungere Paez e nelle ultime centinaia di metri, mentre si preannuncia un arrivo allo sprint, avviene il contatto tra Valdrighi e Paez che cadono lasciando la vittoria a Dario Kerchi del team Likugan. Valdrighi riesce a risalire in bici conquistando la seconda posizione mentre Paez, dolorante, chiuderà quinto dietro a Spica e Goria che sprintano nell'ordine per la terza posizione. Per Paez una forte botta alle ginocchia ma sembra niente di grave gara dominata dal team Sudal-Likugan anche in campo femminile con la campionessa italiana Marathon Sandra Mayrofer che si è imposta sulla compagna di squadra Adelaide Morat e sulla veneta del team Mente Corpo Chiara Burato. Alla Gran Fondo Spaccapria, seconda alla Gran Fondo Trevalli Prima alla Gran Fondo Castillo di Potenza